Ci siamo costituiti anche parte civile, io e Graziano, abbiamo chiesto simbolicamente 100.000 euro a testa. Io mi sono costituito anche come società del negozio che ha chiuso e abbiamo chiesto 500, mezzo milione di euro di risarcimento. Questa è la cifra che Graziano Stacchio e Roberto Zancan hanno chiesto come risarcimento a Oriano Derlesi, giostraio veneziano di 52 anni, accusato di aver fatto parte del commando che assaltò il negozio. Il gioielliere e il benzinaio che schivarono i proiettili si sono costituiti parte civile al processo. I legali di Derlesi hanno rinunciato al rito abbreviato. Non hanno optato per il rito abbreviato ma bensì per il procedimento classico con testimonianza e tutto quanto. Perché appunto si rischiano che le cose non sono andate come sono state descritte da noi. Tanto lì c'è un video che parla, ci sono le perizie balistiche irripetibili di risa e non so cosa vogliono provare. L'eventuale risarcimento andrà completamente in beneficenza nel fondo per le vittime della criminalità. In particolare per sostenere le spese legali di chi come Stacchio è finito indagato per eccesso colposo di legittima difesa. È un fondo che abbiamo già creato, che è quello che ha pagato anche i funerali del povero Hermes e che continueremo a tenerlo vivo anche con l'iniziativa della collezione che ho fatto io di legittima difesa, la percentuale che viene messa dentro in modo da non far morire questa cosa.